Da queste parti quando si parla di coach Andrea Capobianco legato al basket per tutto quello che ha fatto è comunque un nome importante. Allora chiedo questa giornata cosa rappresenta per il Molise, cosa rappresenta per il basket una giornata con così tanti ragazzi in campo? Ma prima cosa io devo ringraziarvi veramente perché avete fatto un qualcosa di incredibile nel senso che venendo qui avete creato un entusiasmo sotto tutti i punti di vista notevole. Poi il comitato regionale Molise ha fatto un lavoro veramente interessante organizzando un torneo di 3x3 con ragazzini con ben 27 squadre, quindi certamente quello che significa grande iniezione di entusiasmo e sappiamo bene che lo sport ha bisogno di entusiasmo e quindi mi auguro veramente che si sia riuscito ad entusiasmare questi ragazzi. Ecco un bel caso di sinergia, cioè le istituzioni, la società, le società del territorio, tutti insieme che si sono legate per poter fondamentalmente far giocare a basket dei ragazzi poi alla dimostrazione quella 2. Esatto come giustamente dici tu, cioè la sinergia tra le varie componenti è fondamentale. Lo sport visto solo come sport staccato da tutto il resto è nulla, lo sport ha grande valenza proprio nel sociale, educativo quindi è giusto che tutti gli enti, tutte le componenti che credono nei ragazzi si debbano riunire per cercare appunto di dare un qualcosa a questi ragazzi che meritano tanto e penso che questo sia stato fatto, grazie appunto a tutte le componenti a partire da voi. L'ultima cosa, il presidente Stefano Mascio prima ha lanciato il progetto dell'Academy per la Blue Basket quanto è importante avere un settore giovanile, coltivare i propri ragazzi in casa, cercare di farli giocare a basket, insegnarli in un certo modo per poi magari farli provare a farli diventare anche magari professionisti. Scusi, quanto è difficile anche? Ma essere difficile, tutto è difficile secondo me, perché è normale che c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di saper scegliere persone adatte, però oggi come oggi penso che una società abbia da una parte il dovere e dall'altra proprio il piacere di far crescere i giovani. Io sono uno amante dei settori giovanili, ho lavorato sempre in qualsiasi società, sia quando allenavo in C, sia quando allenavo a livelli ancora più bassi, ma anche quando allenavo a livelli più alti, ho sempre puntato molto sui giovani del posto, sui giovani che sono cresciuti nelle società dove sono stato e alla fine penso che qualcosa in cambio ho ricevuto come le attestazioni da questi ragazzi una volta chiamati in campo. Quindi è un grande progetto, un progetto che mi auguro veramente che possa essere apprezzato da tante società e il progetto Academy e mi auguro veramente che si possano vedere sempre più giovani italiani giocare, perché hanno dimostrato i giovani italiani di poter fare tanto. Ricordiamo che le nazionali italiane giovanili negli ultimi dieci anni hanno fatto tre mondiali, cosa non da poco, quindi con un secondo posto, quindi veramente penso che si possa fare molto.